Si parla molto di ambiente, si parla molto di una serie di cambiamenti importanti, le api danno il loro contributo e voi avete fatto un monitoraggio per capire diciamo come ambientalmente le cose stanno andando in questi ultimi tre anni. Quella è la situazione? Allora, il contributo delle api è sia sull'impollinazione, quindi favorire la riproduzione delle piante, qui si parla di un progetto api-orti, quindi l'impollinazione degli ortaggi che vengono coltivati, delle verdure coltivate, e un monitoraggio dello stato di salute. Le api sono delle ottime sentinelle dell'ambiente, proprio per la loro peculiarità è quella di volare per lo meno per un chilometro attorno all'alveare, quindi un areale abbastanza consistente, con una miriade di microprelievi per andare a raccogliere polline nettare e in questi percorsi vanno a raccogliere eventuali, oltre a polline nettare, quello che l'ambiente offre, di positivo o di negativo. Ovviamente questo è un progetto che riguarda alcuni centri urbani, tra i quali Bologna, la zona adiacente al Cab, la zona un po' più periferica. Le cose evidenziate ovviamente non sono le matrici di origine agricola o tanto di origine agricole, ma si trova qualche contaminazione su api e su un ettore appena importato, non stiamo parlando di miele in questo momento, stoccato, accumulato nell'alveare, qualche traccia di glifosate e qualche traccia di metalli pesanti, ovviamente proprio derivanti dall'attività antropica proprio di noi, di noi cittadini. Quindi lo stato di salute si può dire qual è? Ma lo stato di salute, lasciamolo dire agli esperti del settore, noi abbiamo monitorato, abbiamo messo gli alveari per questo progetto, il motivo per cui noi di CONAPI, Consorzio Nazionale Apicoltori, che abbiamo come obiettivo il ritiro, la valorizzazione, la lavorazione del miele degli associati, siamo stati spinti in questa cosa, prima di tutto perché è un'impresa, comunque chi lavora con le api è sensibile per forza all'ambiente, perché le api in un ambiente malsano non stanno bene. E per seconda cosa, negli ultimi anni questi allarmi, e in effetti la produzione del miele è sempre più diminuita, si accendono tanti campanelli d'allarme, i ministeri dell'agricoltura e della salute hanno implementato nel corso degli anni dei monitoraggi in ambiente agricolo, poi questi sono stati interrotti, dovranno essere ripresi, ma al momento come CONAPI abbiamo deciso di mutuare questo modello anche nell'ambiente dove viviamo tutti i giorni, dove respiriamo, dove passiamo la quasi totalità della nostra vita. E questo è quello che le api evidenziano, poi dopo sarà la parte medica che dovrà capire, esprimersi se questo che abbiamo rilevato è buono o meno. Professor Segre, le api come sentinelle del territorio e dell'ambiente? Le api sono le sentinelle e da loro poi dipende, come sappiamo, sono degli impollinatori, la produzione alimentare. e quindi averle e monitorarle ci fa capire qual è lo stato di salute delle nostre città, dell'ambiente in cui viviamo e siamo molto contenti che questo progetto vada avanti da tre anni con CAB che ha prestato i suoi orti e con la Fondazione FICO che ha proprio come scopo, diciamo come statuto, quello di promuovere l'educazione ambientale e l'educazione alla sostenibilità. I primi dati di questi tre anni ci fanno ben sperare? Ma in realtà, ecco, diciamo, dal punto di vista scientifico non hanno una dimensione, come si dice, significative, però sono un indicatore, una tendenza. Ecco, dobbiamo migliorare molto in verità. Il percorso è stato tracciato, adesso bisogna vedere questi dati e cominciare a analizzarli e capire se ci portano notizie positive o negative. Qual è un po' la situazione? Ma il progetto, come già stato detto, è iniziato tre anni fa, questo è il terzo anno, diciamo che abbiamo avuto purtroppo un trend negativo. Diciamo subito, sia per quanto riguarda i pesticidi, sia per quanto riguarda i metalli pesanti, che sono i due tipi di contaminanti che stiamo rilevando in queste zone con le api. Intanto però bisogna dire una cosa, che quando parliamo di città, e sono cinque ormai le città coinvolte, oltre Bologna, Torino, Milano, Potenza e Bari anche, sono solo delle zone, delle città, non è tutta la città. Noi andiamo a mettere appunto queste api in un orto significativo della città. e ecco, perché dico che c'è stato un trend negativo? Perché appunto, ad esempio per i pesticidi, abbiamo visto che dai primi anni, dove si rilevava solo in una città a due, invece quest'anno in tutte le città l'abbiamo rilevato, come se ci fosse un trend in aumento, insomma, dell'uso di questa sostanza, che è un po' nell'occhio del ciclone attualmente. Per quanto riguarda i metalli pesanti, abbiamo visto che c'è un aumento, un aumento dei livelli di presenza di questi metalli pesanti, anche in zone periferiche alla città, perché in diverse città abbiamo gli orti in periferia, come Bologna, ma anche per dire, questi aumentano sia in centro, ma come a Torino, dove abbiamo in centro, quello potrebbe essere plausibile, ma però aumentano anche nella prima periferia, insomma, almeno per quanto riguarda la città di Bologna. Quindi sui metalli pesanti potremmo dire che uno poteva quasi aspettarselo, pur restando fatto in aspetto negativo, però sui pesticidi un po' la sorpresa vera? Sì, sì, però i metalli pesanti sono ubiquitari, quelli si spostano, vengono spostate le grandi masse d'aria, eccetera, è chiaro. Però ecco, dove vengono prodotti principalmente sono le zone urbane. I pesticidi un po' la sorpresa, un po' la sorpresa che noi sappiamo che nei campi coltivati, i glifosati in particolare, perché tra i pesticidi abbiamo trovato, di tutti i pesticidi che abbiamo ricercato, è il glifosate, che è questo erbicida. È stato un po' la sorpresa perché trovarlo negli ambienti urbani non ce lo aspettavamo, insomma, così in un trend in aumento, insomma. Quindi dobbiamo un po' ragionare su questi dati e capire, magari parlando anche con le amministrazioni comunali, per capire se almeno dal punto di vista pubblico si può cercare di limitare questo uso. Poi chiaramente ci sono anche tutti i privati, però lì è un po' più difficile intervenire. Sono però pesticidi, diciamo, che si possono utilizzare, diciamo, non sono contro la legge. Sì, certo. Diciamo che in città ci sono dei regolamenti che indicano di non... dovrebbero essere individuate dalle tecniche alternative a questi prodotti chimici, per quanto riguarda gli abicini, ma anche gli altri prodotti. Però ci sono le deroghe e spesso e volentieri si va in deroga. E quindi, insomma, bisogna cercare di limitare queste deroghe e cercare di attivare dei sistemi alternativi.